Ciao Mi chiedo, dobbiamo chiedere, ciao, no, eh, andrò domani. No, no, potrò chiedere a ciao. 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 Adesso vado al lavoro, inizio il turno alle 10 e finirò domani mattina alle 6. Facciamo controlli sulla panta, anche di notte stiamo lavorando per mettere poi allo stabilimento di fare questo nuovo modello di macchina. Fare il turno di notte, vabbè, il turno di notte è un po' un sacrificio, la notte è fatta per dormire, però poi ci si abitua. Pomigliano sta passando dei, ha passato dei brutti momenti, adesso sembra che si stia riprendendo, cert'è che dobbiamo poi vedere come si evolverà la cosa, vediamo se riuscirà a reintegrare tutti quanti noi, siamo alle circa 5.000, quindi sarà una bella battaglia qua per reintegrarci tutti. Speriamo che ci danni anche qualche altro modello di macchina, oltre la panta, poi vedremo, si vive un po' di speranza. Se ci va male con questa macchina, con questa panta, non so che cosa succederà, che fine faremo, perché a questa età puoi trovare lavoro qua al sud, al centro-sud, è un po' difficile, ci sono persone che stanno a casa da tre anni, a cassa integrazione, a 900 euro al mese, chi c'è il mutuo, qualcuno addirittura ha fatto dei gesti estremi, che ne riportava il giornale poco tempo fa, è dura, è dura e si sta andando avanti gli stenti. Grazie a tutti. 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 Buon fine settimana, buon fine settimana, ci vediamo lunedì. va bene. Ciao, ciao. è finita anche questa settimana. Grazie a tutti. You side alone with my soul